ok la prima cosa che mi è venuta in mente è il fatto che io mi senta un'estranea cioè che mi sento un po' un outsider in questo posto nel senso che dovrei sentirmi un insider perché anch'io sono content creator anch'io faccio parte di questo mondo però c'è sempre questa cosa per cui tu non ti senti mai abbastanza quindi vedi gli speaker vedi gli altri content creators vedi le persone che sono qua al marketers e involontariamente fai sempre questa cosa del comparati no della comparazione il dire ok io sono sono quella che sono però potrei essere di più dovrei essere di più gli altri sono meglio e quindi non importa quanto dove tu arrivi perché se io mi guardo due anni fa dove ero e confronta quello che sto facendo adesso ero migliaia di anni luce indietro quindi ho fatto dei passi avanti però comunque non mi sento mai come se fossi all'altezza degli altri cioè non mi sento mai abbastanza e penso che sia una cosa molto comune che succede tra in realtà tutte le persone vorrei dire tra creativi ma in realtà succede in qualunque campo qualunque cosa uno faccia quindi questo è il mio pensiero grazie